Anna Di Domizio, che cosa è la lingua dei segni? Sì, la lingua dei segni è una lingua a tutti gli effetti, con una sua grammatica, una sua sintassi, a differenza delle altre lingue, è solo una lingua visiva anziché una lingua vocale. La maggior parte dei paesi europei la lingua è stata riconosciuta e siamo in attesa che anche in Italia si possa fare questo passo così importante. La lingua dei segni è uno strumento anche per l'inserimento nel mondo del lavoro. A che punto siamo con questo tema, i sordi nel mondo del lavoro? Ecco, questo è un tema molto importante, altrettanto delicato, inerente alla legge 68-99 e dobbiamo dire proprio che la regione Piemonte, o meglio la città di Torino a livello nazionale, è stata la prima nel 99 a portare proprio al regime attuativo di questa legge inserendo le prime persone sorde in azienda tramite sempre l'uso della lingua dei segni e anche della lettura labiale, un metodo bimodale. E ad oggi abbiamo degli ultimi risultati.